Lo hanno chiamato percorso per un futuro inclusivo, giusto e solidale, idee proposte del terzo settore. Sono i membri del forum del terzo settore che in vista delle prossime elezioni regionali desiderano dare il loro contributo per agire laddove c'è più bisogno. E invitano tutti, i soci e le socie, i volontari e le volontarie, gli operatori e le operatrici delle realtà aderenti al forum del terzo settore Sardegna a farsi protagonisti di questo dialogo per costruire un mondo più giusto e per sensibilizzare sull'importanza dell'esercizio di una cittadinanza attiva. Per noi le priorità sono quelle che permettono di costruire una Sardegna inclusiva, più equa e sostenibile. Questo significa intervenire per l'inclusione e per i diritti delle persone con disabilità, significa intervenire per sostenere le nuove generazioni e lavorare per costruire una sanità nei territori che garantisca benessere e salute a tutte le persone. Da questo punto di vista noi siamo una ricchezza, riteniamo, per la conoscenza dei bisogni che abbiamo nel territorio. Il codice del terzo settore, le norme, ci aiutano a svolgere questo ruolo di interesse pubblico generale. Noi vorremmo aprire in tutti i tavoli a livello regionale negli enti locali per coprogrammare le risposte ai bisogni delle persone e progettare le risposte dal punto di vista dei servizi e delle attività che vanno erogate.